Per me vaccinarsi ha significato fare la mia parte per la comunità, la mia parte per la squadra, in modo che ci sentiamo più sicuri e fare la mia parte per dare qualcosa in cambio anche a tutte le persone che hanno lavorato e ho avuto periodi molto difficili durante questa pandemia. Nella vita quotidiana di tutti noi serve un po' più di stabilità di quello che è stato nell'ultimo anno e mezzo e quindi la vaccinazione credo che sia indispensabile. Distanti ma vicini. Proteggiamoci ancora.